600 alunni di scuola primaria tra i verdi paesaggi di Lama Balice e la scoperta dell'olivo e dell'olio extravergine. È partito a Bitonto il primo appuntamento del progetto Impariamo a Mangiare Sano, promosso da Regione Puglia e Comune, in collaborazione con Masseria Lama Balice. L'iniziativa prevede quattro appuntamenti in masseria didattica, uno al mese fino ad aprile. Diverse le scuole coinvolte, il primo circolo didattico statale Nicola Fornelli, gli istituti comprensivi Don Tonino Bello, Modugno Rutigliano, Rogadeo, Silos e Cassano Derenzio, oltre all'istituto Sacro Cuore. Protagonista della prima tappa è appunto l'olio tipico del territorio, il cima di Bitonto, che si estrae dall'oliarola Bitontina. Nel corso della prima tappa i ragazzi infatti hanno potuto conoscere le diverse varietà di olive, i processi di trasformazione e conservazione e il ruolo che la pianta ha sempre avuto da un punto di vista alimentare e medicinale. Penso che questo progetto sia molto importante per sensibilizzare i bambini, ma non soltanto i bambini, anche le famiglie chiaramente, sulle corrette e sane abitudini alimentari. Nello specifico nella giornata di oggi stiamo trattando il tema dell'olio, l'olio extravergine d'oliva, che ha tantissimi benefici nella prevenzione di tante patologie che vanno dalle malattie cardiovascolari fino ai tumori, ma anche nell'ambito della cosmesi, quindi nella prevenzione di malattie cutanee. E' fondamentale che arrivi il messaggio alle famiglie dell'importanza appunto di avere sulle nostre tavole frutta e verdura a chilometro zero e soprattutto di valorizzare il nostro territorio, il territorio della Puglia. L'appuntamento successivo a febbraio sarà dedicato all'importanza nell'alimentazione degli ortaggi, con un laboratorio che permetterà agli alunni coinvolti di realizzare e curare un piccolo orto biologico. A marzo un laboratorio sull'ambiente per conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lammabalice. L'ultimo incontro ad aprile sarà dedicato all'importanza di mangiare frutta, preferibilmente locale.